Io sono convinto che le scelte vanno anche fatte rischiando nel momento in cui si fanno e questo è compito di chi è stato nominato dalla città ad essere rappresentante della popolazione. L'assessore alla cultura e al turismo di Palazzo Cernezzi Luigi Cavadini non usa mezze parole e risponde alle polemiche di questi giorni intorno all'opera di Daniel Libeskind della Efe Electric destinata a sorgere sulla diga foranea, la cui realizzazione spetterà all'Associazione Amici di Como. Insomma, mentre il consigliere comunale di Adesso Como, Alessandro Rapinesi, annuncia un referendum per dire sì o no al monumento donato alla città dall'Archistar, l'assessore Cavadini ribadisce che non è necessario consultare la popolazione. Il discorso della consultazione della città è un discorso che secondo me si può fare su temi più complessivi e non su singoli temi o su temi limitati anche se poi interessano tutti perché il paesaggio è di tutti. L'assessore torna anche a parlare dell'impatto paesaggistico del monumento progettato dall'Ibeskind, tema su cui si è molto dibattuto nelle ultime settimane. Io non vedo motivazioni per dire un no né dal punto di vista critico e artistico né dal punto di vista dell'inserimento nel paesaggio. Non è un'opera che si impone perché è un'opera in sé trasparente e quindi questo sicuramente è uno dei pregi dell'opera proprio per il luogo in cui deve essere posto. Potrà creare un'attrattiva in più al nostro paesaggio di lago o paesaggio della città vista dal lago.